Buona paura. Spingerci a sopravvivere. Il dolore e la sofferenza possono reprimere questo istinto. Lo scopriremo presto. Blocco attivo. Ora non avete più scampo. Sono in ecstasy. Sì, sì. Questi dati sono affascinanti. La gioia del massaggio. Il sollievo. L'infinita estasi di versare sangue al proiettivo. Loro non hanno... Voi non potete nulla contro la mia forza. No, nessun dato interessante. Restate vive, mie piccole cavie. E lasciate che io studi la vostra paura ancora un po'. Temo sia il mio esperimento più deludente. Questa sarà la vostra fine. Niente paura. Ce la faremo. Se è qui, lo troverò. Questo vi rallatterà. Devo entrare dalla vostra luna. Voglio vedere il terrore. I nostri occhi. E lo so più. Grazie. Oh, cavolo. Mi sono andato a via da casa. Il virus essere compatibile con creature tanto stupide. Porta chiusa. Di solito non mi intrometto in questo modo. Ma è troppo divertente. Tutta la mia vita è stata un preludio alla conoscenza che otterrò oggi. Non sarà tanto facile ottenere la libertà. Bravi, ma non servirà. Avanzate discretamente nell'esperimento. E ridurro i pezzi. Oh, di questo cazzo di paura. E' chiusa. I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via. La gioia del massaggio. Il sognimento. L'infinita estasi di versare sangue al prun. Troverò e vi ammazzino. Non potete ferirmi. Solo fermate. Una chiave per accedere a nuovi pericoli. Quell'idiota l'ha chiuso. Beh, la gioia del massaggio. Il sognimento. L'infinita estasi di versare sangue altrui. Odio avere gli occhi addosso. Andiamo! Andiamo! Voi non potete nulla contro la mia forza Questo era solo l'inizio Inizia la prossima fase del test 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 Inizia la prossima fase del test